Degli autori di The Ring Una voce ti dice che dopo sette giorni diventi rincoglionito E Toto Bond Io sono Bond Toto Bond Una nuova esilarante scenetta di Il Parapiglia Production Renato è un ragazzo abbastanza sfigato Che non ha per nulla successo con le donne Passa le sue giornate su internet dentro il bagno di casa sua Leggendo giornaletti porno, aggiustandosi le bretelle e la scrima centrale dei capelli Spesso Renato prova ad abbordare le ragazze Con conseguenze abbastanza disastrose Come... Che buona questa! Stavolta ce la faccio! Ciao! Te lo succhierei tutto il sangue da queste tette? Ma vai a succhiere il cazzo a mio padre? Che tanto abbiamo lo stesso sangue! Come potete sentire l'autostima di Renato adesso è scesa sotto zero Quasi a meno uno Renato non ne può più Ha bisogno di un aiuto Quando... Guarda cosa ho trovato qui Preghiera per invocare la fatina scopetta Vediamo di cosa si tratta Sei sfigato? Non tocchi una donna da anni? E l'ultima volta che sei entrato dentro una donna è stato quando sei entrato nella Statua della Libertà? E quell'anno che l'hai toccata ti ha scambiato per uno che si è fatto da poco l'ergastolo? Qui abbiamo quello che fa per te Invoca anche tu la fatina scopetta e ti farà diventare una donna Tutte le donne cadranno ai tuoi piedi senza indossare le scarpe e senza le calze Sì, sì, come si fa? Come si fa? Clicca il pulsante acquista ora E se clicchi entro dieci secondi riceverai in omaggio la fantastica suoneria di Jimmy Ecco qui Mi chiamo Jimmy Sono un cretino Sono il gay Del telefonino Ma via sta cazzata Allora Se una donna vuoi diventare La fatina scopetta devi invocare Recita ad alta voce per tre volte Fatina scopetta Sei una troietta Mmm Fatina scopetta sei una troietta Fatina scopetta sei una troietta Fatina scopetta sei una troietta Oh cazzo Fine prima parte Annette Grazie.